ciao ragazze ciao a tutte e a tutti nuovo video chiacchiericcio chiacchiericcio si ragazze come state spero bene allora questo video un po per parlare un po con voi e anche avertirvi come data la mia giornata tra ieri sera avanti ieri e oggi stesso allora sono stata attentista se mi sentite parlare un po strane perché sono gonfia da questa parte perché sono stato perata in bocca e quindi potete capire bene il processo lungo che c'è stato se appunto mi sentite parlare strane perché da questa parte vedete non so se si percepisce ma sono gonfissima vedete si sono gonfia non importa tanto proprio guarirò e niente allora appunto sono stata dentista mi hanno tolto una radice e un dente e adesso sto meglio meglio si fa per dire perché c'è un lungo processo di guarigione e quindi nulla si spera che ok il microfono è qua si ok allora vi dicevo si spera che guardisco presto perché non ne posso più di questi denti miei poi devo anche curarli oltre a lavarli eccetera curarli e mettere l'apparecchio perché ragazzi questi denti così non sono brutti ma non sono neanche eccellentemente belli quindi devo migliorare un po la situazione e l'arcata superiore dei denti cioè non tutta questa parte qui che non riesco mai appena capire sto parlando strana appunto per quel motivo lì comunque nulla sono andata lì a sassari al maxillo facciale e mi hanno fatto tutte le cose che c'erano da fare cioè la punturina ovviamente puntura si fa per dire l'anestesia diciamocelo chiaro l'anestesia dopo l'anestesia ovviamente ne ha cominciato a martellarmi non sto lì a fare tutta la cosa del dentista però è stata un'operazione abbastanza lunga e complessa un po' allucinante però vabbè niente il dentista è stato bravo simpatico e tutto ma io avevo un po' paura era autorizzata allucinante però ero anche un po' tranquilla tranquilla non tanto ma una via di mezzo e niente quindi come sono stata come sto adesso ma mi sembra che mi sia passato un treno sopra la bocca non voglio dire altro cosa però è così ragazzi quando si tratta di dentista ho termito un po' ma non tanto comunque niente questa bocca così cosa vuol dire che mi giravo un po' e non mi dovevo girare dall'altra parte cioè da questa e mi giravo da questa quindi boom scusate e niente questo è quanto inerente alla mia salute del dente e della insomma di questa parte qui nulla sto benino ma avrei dovuto ah se sentite silenzio è perché la stavolta ho deciso di spegnere la televisione di parlare con voi decisamente con voi anziché accendere la televisione l'ho spenta anzi che ore sono adesso? le 9 e 21 fanno bene e niente prima avevo i capelli tutti belli sparpagliati tutti sciolti ma li ho dovuti legare perché erano inguardabili come erano quindi non è che erano inguardabili erano belli spigliati e tutto però sembrava una leonessa sembravo e niente anzi dopo appena posso mi metto un po' di una buona emollente buro cacao per le labbra per lenire un po' il fastidio alle labbra non mi stanno bruciando ma anche per tanto per dare un po' di idratazione alle labbra scusate non ho mal di gola è che a forza di ingoiare non vi dico cosa dall'anestesia e c'è non dall'anestesia insomma sì da tutta l'operazione che ho fatto il non posso dire come sangue come si può dire sì quello ho avuto ieri sera un mal di stomaco ma un mal di stomaco schifosissimo comunque adesso sto un po' meglio non direi benissimo ma piano piano me la sto cavando perdonatemi se sto registrando in questa modalità zombie perché questo non ci sfugge però mi sentivo lo stesso di aggiornarvi di come sta la mia salute cioè non solo della mia salute di dove sono andata di cosa ho fatto cosa non ho fatto è vero che non può interessare a nessuno però un video che a che riccio ci poteva anche stare e niente quindi tutto sommato ieri non ho fatto nulla di perché se non che andare dal dentista avanti ieri aspettavo il giorno di andare aspettate avanti ieri aspettavo di andare dal dentista ho confermato la visita che dovevo fare cioè l'estrazione per confermare che dovevo andare di là a sassare e non fare un viaggio a vuoto e come siamo andati lì abbiamo chiesto del dottore il nome del dottore e il dottore se ci fosse quello che mi doveva estrarre il dente e anche la radice e mi hanno detto di sì che c'era quindi abbiamo aspettato in sala d'attesa e lì dopo un po' mi hanno chiamato il mio cognome e sono andata ovviamente nulla di che non mi sembra che mi hanno dato non mi sembra che mi hanno dato non mi sembra che mi hanno dato un antidolorifico o antibiotico nulla di tutto ciò no anzi il dentista mi ha chiesto ma stai prendendo l'antibiotico io ho detto di sì ma poco ne ho preso perché io con la medicina non ci vado a nozze soprattutto con il mio stomaco non è il massimo già è così e niente questo è quanto stamattina mi ha fatto una bella colazione con caffèuccio e del latte fresco barra tiepido come hanno consigliato a me di avere cose tiepide perché con questa cosa che ho avuto qua in bocca non è bello avere troppe cose né fredde né troppo calde una cosa sì tiepida diciamo la verità tiepida quindi ribadisco perdonatemi se mi sentite come la voce è tutta strana più che parlo curiosa perché ragazze questa è la verità parlo curiosa perché mi hanno appena operato in bocca anzi io è stata mi hanno operato in bocca non so se avevo accennato ve lo riaccenno e quindi nulla questo è tutto ho la casa tutto un casino quindi non so cosa riuscirò a fare temo che per oggi non faccia niente perché con questa bocca così cosa volete che faccia? devo stare a riposo e cercare di non sforzarmi troppo ovviamente perché i punti sono punti voi direte ma non puoi fare niente no ho i punti qui da questa parte se mi tiro troppo in giù rischio di strafare i punti in su non succede niente ma in giù o mi abbasso con le gambe ma anche lì con i ginocchio non sono tante vabbè ci provo ragazze provo a vedere cosa posso fare in casa non ne ho idea non ho idea ancora di cosa posso fare in casa voglio fare tante cose ma questa scusate ma un sonno terribile ho dormito ma voi mi chiederete hai dormito o non hai dormito ho dormito ma non tanto perché io di solito dormo fino alle otto e mezza stavolta il cane mi ha svegliato quando si stava partire in gallo vabbè niente scusate è una macchina che è giù giù di fronte a casa mia ma un compagno è lo che ti ammine comunque vi dicevo il cane mi ha svegliato stamattina quello di giù cioè il nostro cane di famiglia e quindi ne ho ne ho risentito un po' con il sonno mi ha fatto un po' quasi ridere il cane perché il cane è una gioia il cane è il miglior amico dell'uomo ma va? che cosa scontata che dici ma vera e quindi mi ha un po' come dire mi ha un po' sì mi ha simpatizzato la cosa del suo abbaio mi ha fatto ridere quindi ridere dentro di me perché se rido sforzando i punti sono cavoli amari già e nulla voi direte quindi non riesci proprio a allargare la la bocca quando ridi poco e niente ragazzi devo stare proprio proprio a riposo sì potrei anche lavare i piatti e quant'altro ma ho paura di sforzare i punti quindi non lo so si vedrà e niente voi che mi raccontate di bello piuttosto fatemi sapere qua sotto i commenti e non lo so dove siete che lavoro fate e via discorrendo so che non me ne può fregare di me non mi deve interessare ma sono curiosa di sapere cosa combinate di bello che fate se lavorate se siete all'urzio non lo so ditemi voi ma non credo che nessuno sia all'urzio o se guardate i video su youtube che qualsiasi attività fatte fatemi sapere ciò che fate un ciao un saluto o sto lavando i piatti o pulisco casa o queste cose così o sono a lavoro sto facendo questo così questo lavoro così fatemi sapere un po' di tutto dai non siate timidi ragazze ragazzi ditemi che fate che bello dai e niente bene ragazze siamo aggiunti al termine questo video io ah il tempo stamattina mi sembra abbastanza caruccio ovvero molto bello c'è un po' di sole non piove grazie a Dio qui a Palau e ah ho acceso un po' di luci scusate il rumore esterno al video ma è il mio stomaco che dà di matto che è a fame ma non posso mangiare altro al momento perché anzi ho già lavato i denti e tutto lavato si fa partire perché ho usato lo spazzolo elettrico e piano piano quando l'ho lavato come potevo non potevo tanto allargare la bocca però mi sono arrangiata come ho potuto ah PS PS vi sto dicendo che la ho acceso tante luci due luci una per volta perché sennò questo luce questo video sarebbe stato come dire sarebbe stato buio 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 qua quanto buio sì è vero che di qua c'è la finestra però non me la sentivo di aprirla perché non è che ha freddo però un po' di fresca l'aria fresca c'è adesso direi sì e niente noi ci si vedono nel prossimo video se è così un bel like lasciatevi commento anche e se non volete perdervi i prossimi aggiornamenti di video aggiornamento video attivate tutte quante le campanelle non una né nessuna ma né personalizzata ma tutte in modo tale da ricevere tutti gli aggiornamenti se vi interessa ovviamente non siete obbligate un bacio ciao a presto buon inizio settimana innanzitutto oggi è guardate ok oggi è martedì quindi anche se non è lunedì e né mercoledì oggi è martedì sì vero aspettate che riguardo sì oggi è martedì benissimo niente ciao